Ci capita di rado, ma quando lo facciamo lo facciamo con molto piacere, di ospitare lo scrittore, editore e nonché fondatore del Movimento Libertario, Leonardo Facco, che abbiamo in linea telefonica e che salutiamo. Buonasera Facco. Buonasera a voi. Ci capita, dicevo, e lo facciamo con molto piacere, non di frequente, ma questo è anche naturale in concomitanza di particolari avvenimenti, ad esempio siamo occupati ultimamente della crisi greca, adesso ci sono state anche le elezioni, Zipras sembra che abbia vinto, ma senza avere la maggioranza, diciamo così, assoluta. Comunque questa è un'altra questione, invece questa sera noi ci interessiamo di un libro che avevo accennato proprio al termine di una precedente intervista di qualche mese fa, un libro che sarebbe uscito a firma appunto di Leonardo Facco, elogio delle contante. Ora, pur vero che sei, Facco è arrivato al terzo elogio, il primo era quello nei confronti del rivassore fiscale, il secondo era quello dell'antipolitica, adesso siamo all'elogio del contante. Ecco perché è importante che circoli moneta, che la gente possa toccare con mano il denaro e possa quindi fare commercio con denaro in tasca, che forse rappresenta, anzi senza altro, una delle libertà del cittadino, che il potere vuol togliere, diciamo così, vuol sottrarre. Quindi è un libro che è improntato con quale spirito e con quale intento? Allora intanto buonasera, il libro si esce proprio oggi ufficialmente, quindi dai prossimi giorni sarà disponibile, intanto chiariamo una cosa, il libro non è un trattato di economia, nel senso che non si occupa di teoria della moneta e del credito, c'è grandi saggi scritti da importanti autori e economisti veri. Il mio problema è focalizzare la questione relativa proprio al contante e che come dice Giovanni Bilindendi poi nella sua prefazione, difendere il contante è semplicemente difendere l'ultimo centimetro rimastoci dalla libertà monetaria. Questo perché? Perché intanto, come a volte ci è capitato magari di dire in maniera abbastanza collaterale, oggi noi viviamo in un mondo dove la moneta è, tecnicamente si dice fiat, cioè una moneta fiduciaria garantita dallo Stato. I danni li stiamo cominciando a vivere, in questi ultimi 7-8 anni abbiamo cominciato a vivere i danni di questa manipolazione monetaria, ovvero di grandi banche centrali che decidono la venizione della moneta, lo fanno a debito, cioè comprando debiti degli stati che a loro volta si indebitano di più e quindi inflazionando, perché stampare moneta, l'inflazione è stampare moneta, che poi successivamente ha delle conseguenze sui prezzi dei prodotti, ma soprattutto crea distorsioni nell'allocazione dei capitali e così via. Quindi questo libro non si occupa di queste problematiche che sono molto più tecniche ed economiche soprattutto. Io mi occupo dell'ultima parte di questo mondo, cioè il contante, visto che, però questo si inserisce nella vita quotidiana della gente, è un argomento che deve diventare semplice, visto che l'attacco al contante è proprio l'ultimo baluardo dello statalismo per cercare di avere sotto controllo tutti i nostri averi, cioè tutti i nostri soldi e tutti i nostri denari. In Italia potremmo dire che questa enorme battaglia è iniziata con l'avvento al governo di Mario Monti, il quale ha cominciato a stringere il cappio e soprattutto ha introdotto il famoso limite a 999,99 euro, ma ci sono altri progetti di legge in corso dove prevedono addirittura la riduzione a 300 euro e poi addirittura l'eliminazione. Pensate soltanto che qualche giorno fa, quattro giorni fa a Roma, è stato fatto un convegno con tutti questi arnesi dello statalismo, tra cui appunto questo Sergio Boccadultri che è un parlamentare di Selle, che ce l'ha a morte col contante e con chiunque produce ricchezze, essendo lui un parassita assoluto, dove lo hanno chiamato e-payment for digital life, forse perché poi usano queste forme straordinariamente edulcorate che prendono spunto da quella neolingua orwelliana, per cercare di fare che cosa? Di ulteriormente stringere la morsa intorno al contante. Ecco, io di che cosa mi occupo in questo libro? Mi occupo fondamentalmente di fare una cosa importante, intanto sfatare tutti quanti i miti che raccontano intorno all'abolizione del contante. Io penso che a voi verrà in mente il famoso programma della Gabanelli, che partì da un articolo del Corriere della Sera in cui la Gabanelli si improvvisò economista raccontando una sua, elucubrando più che raccontando, una sua teoria su come bisognerebbe fare per abolire il contante. Bene, io parto da tutti questi miti che poggiano poi tutti quanti puntualmente sulla guerra all'evasione fiscale e questi miti li smonto uno alla volta. Li smonto non soltanto per esperienza mia, ma con ovviamente le parole di tante altre persone, altri studiosi che si occupano di questi argomenti. Il mito dei miti, come dicevo, è quello contro l'evasione fiscale, ma poi effettivamente i miti si sprecano assolutamente. Pensate che addirittura ci sono delle proposte, perché il problema non riguarda solo l'Italia, ma il problema è mondiale. Si sente particolarmente in Europa, ma anche negli Stati Uniti comincia a farsi sentire. Ci sono addirittura personaggi che sono paladini dell'abolizione del contante, appoggiandosi a teorie igieniste, perché usare il contante potrebbe servire a portare dei batteri e quindi a contaminare le persone. Si sono lette e scritte delle corbellerie che passano per teorie che sono impressionanti. Ecco, io faccio tutto questo nel libro, ci racconto proprio nel dettaglio l'assurdità di questi miti, la banalità del male che c'è in questi miti e poi il libro è corroborato tra l'altro da due straordinari saggi. Il primo di Giovanni Birindelli, il quale lui si è un economista, fa un'analisi un pochino più approfondita, prendendo spunto da questo mio elogio del contante, ricorda quali sono i guarti del sistema monetario. E poi c'è la postfazione di un altro economista indipendente, Gerardo Cocco, che è straordinario, Gerardo Cocco ha scritto varie volte su questo problema, lui ci ricorda che quello dell'abolizione del contante è un provvedimento odioso che mira ad eliminare la cartamoneta, il cash e non farà altro che ingessare completamente l'economia e farà sì che la crisi possa veramente raggiungere il suo climax. E sarebbe forse l'ultimo atto autoritario di coloro che si credono i padroni dell'economia, i padroni delle nostre vite. Quindi questa è la traccia che caratterizza il libro, sono 156 pagine e in 156 pagine penso di sfiscerare molto attentamente questo argomento. Ecco, a parte sono curiosissimo di leggerlo, è uscito oggi e lo acquisterò, poi ci dirai anche come poterlo acquistare. Ma ecco, il fatto della mancanza del contante, che poi dicevi nella prefazione di Giovanni Birindelli viene definita questa la battaglia per conservare almeno l'ultimo centimetro di libertà, visto che ce le stanno togliendo tutte da questo punto di vista, come ci si può difendere? Lo dici nel libro? Sì, allora intanto bisogna cominciare a difendersi protestando, bisogna cominciare a difendersi facendo che cosa? Cominciando ad entrare con una certa efficacia nel dibattito pubblico, cosa che non ci è permesso di fare, perché è chiaro che questo libro sarà completamente ignorato, lo assistemo come un po' tutti i miei libri. Poi io fortunatamente ho tutto un mio mondo, una mia nicchia che gravita intorno al web e a piccole realtà di informazione, come ad esempio la vostra radio, io vi ringrazio sempre di ospitarmi e quindi in qualche modo poi le idee si fanno circolare. Però la prima cosa da fare è dibattere su questi argomenti, poter entrare nel dibattito generale per sbugiardare tutte le sciocchezze che vengono raccontate da questo punto di vista. Ad esempio quando ti racconto dell'evasione fiscale legata al contante, io racconto, spiego, porto degli esempi di come questa sia assolutamente una fallaccia, di quando ti vengono a raccontare che l'eliminazione del contante servirebbe per semplificare il fisco, io spiego, racconto perché è una corbelleria. Quando vengono a raccontarti che l'abolizione del contante permetterebbe di togliere acqua alle mafie, io spiego che è tutto un falso perché gran parte dell'attività mafiosa viaggia sui circuiti finanziari che avvengono attraverso transazioni elettroniche, quindi siamo veramente di fronte a tante di quelle corbellerie che se non hanno contrapposizione è molto difficile riuscire a controbattere. La gente comune purtroppo si occupa un po' poco di queste cose, anche se il fatto che comincino a togliere il contante forse potrebbe diventare un atto di percezione molto interessante. Come fare? Bisogna cercare di lasciare il meno contante possibile in banca, perché è chiaro che ad esempio uno dei punti fondamentali che io spiego e racconto nel libro del perché vogliono abolire il contante è anche perché Stato e banche sono praticamente l'uno il braccio armato dell'altro e viceversa. Le banche non sono messe bene, in un sistema di moneta Fiat come dicevo oggi esiste una quantità di indebitamento da parte delle banche che è impressionante e quindi vi faccio un esempio, se domani mattina tutti i correntisti della banca di Macerata, non so se esiste faccio per dire, dovessero presentarsi e chiedere di avere indietro tutti i loro soldi la banca fallirebbe perché questi soldi non esistono. A parte l'utilità non è anche. Ecco, appunto, è chiaro, loro hanno fatto delle leggi per le quali tu non puoi ritirare più di 2.500 Euro e se superi 2.000 Euro, se li superi devi dare la carta d'identità, devi dare documenti, poi oggi ci sono, tra l'altro tutto questo è legato anche a tutta un'altra serie di meccanismi fiscali come il famoso SERPICO, il centro di elaborazione che mensilmente riceve da tutte le banche i conti correnti di ciascuno di noi e così via, ecco perché è l'ultimo centimetro, perché l'abolire il contante è proprio l'attacco finale, perché molta gente di contante ce ne ha sotto il materasso, come si diceva una volta, il resto c'è molta saggezza nei proverbi degli anziani. Ecco, bisogna fare anche questo quindi, togliere contante i soldi dalle banche, anche perché voi dovete sapere che in realtà quando aprite un conto corrente bancario e firmate quella serie di documenti di cui non leggete mai nulla, nessuno legge mai nulla, me compreso, l'ho dovuto fare poi successivamente per approfondire ovviamente argomenti come questi, in realtà oggi il rapporto che si ha con la banca non è il rapporto storico che un depositante ha sempre avuto con le banche, tu depositi i tuoi soldi che rimangono di tua proprietà e dai alla banca la possibilità eventualmente di prestare i tuoi soldi a qualcuno che vuole fare impresa guadagnandoci sul tasso di interesse e così via, non è più così, nel momento in cui tu consegni i soldi alla banca i tuoi soldi non sono più tuoi, ma diventano di proprietà della banca stessa e questo è scritto nel codice civile e quindi voglio dire, siamo veramente di fronte ad un sistema ormai agli sgozzoli, perché io ripeto non dirò, perché non la conosco la data in cui tutto questo avrà un epilogo, però oggi siamo veramente in una condizione assurda e però in questo loro autoritarismo il limite, limitare il contante è fondamentale, ecco perché ad esempio lo Stato non ammette e non accetta monete elettroniche, voi sapete che negli ultimi anni sono nate delle criptovalute, come il Bitcoin che è la più famosa e ovviamente questa è la disperazione di chi detiene le leve del potere, cioè lo Stato e la banca che è l'agenzia monopolista alla quale lo Stato ha dato la possibilità di gestire la stampa del denaro, questo è quello che accade. Come funziona perché questo meccanismo? Facci capire, questo ultimo che è stata la disperazione? Il Bitcoin, le monete, le criptovalute, cioè praticamente è nata, il Bitcoin è una criptovaluta così come ne esistono delle altre, Litecoin eccetera, sono delle monete nate dall'interazione del mercato, sono delle monete, sono monete elettroniche si chiamano, che non hanno nulla a che vedere con le carte di credito eccetera a gestire le banche, cioè la carta di credito che in teoria corrisponde a dei soldi che tu hai depositato, è una vera e propria nuova moneta, il Bitcoin, sono nate appunto per poter fare quello che si vuole, cioè esattamente funziona come una qualsiasi antica moneta legata al gold standard, cioè una volta, anche questo poche volte, la gente non lo sa, ma storicamente per migliaia di anni, tutta la prima parte del mio libro è un po' dedicata alla storia del denaro anche, per migliaia di anni la moneta è sempre stata legata a qualcosa di reale, a un sottostante vero, che poi il mercato ha sempre scelto essere l'oro e l'argento, ok? Soltanto nel Novecento che tutto questo sparisce, poi nel 1971 con la rivisitazione degli accordi di Bretton Woods che definitivamente sparisce il controvalore in oro delle monete e quindi gli americani impongono il dollaro come moneta internazionale. Bene, ecco, in questi ultimi anni grazie alla tecnologia sono nate queste criptovalute, le quali vengono utilizzate attraverso computer, telefonini, iPad, device vari e servono proprio per fare esattamente quello che si fa nella vita reale. Sono ancora una realtà molto di nicchia, però sono una realtà di nicchia estremamente pericolosa, non sopportata ovviamente da chi gestisce la moneta in monopolio. Benissimo, molto interessante perché questa delle microvalute non la conoscevo. Criptovalute, criptovalute. Criptovalute. Senti, Franco, ma la mancanza del contante, d'altra parte poi, quanto ci viene a costare a noi contribuenti? Cioè, dover agire sempre con la carta di credito o con il banco, Matteo, non è un costo? Sì, esattamente, tra l'altro c'è questo fatto qua. Come si dice? Assolutamente l'utilizzare carte di credito, l'utilizzare contocorrenti, l'utilizzare transazioni elettroniche attraverso la banca ha un costo. Questo costo è un costo che molte volte è abbastanza alto. Si pensi anche al banco, ma perché qual è uno dei tentativi? L'han già fatto per legge, esiste la legge introdotta un anno fa per la quale alcuni addetti ai lavori sono costretti ad utilizzare il banco, ma per transazioni inferiori ai 30 Euro, 50 Euro scusa. Quindi hanno cercato di imporre il posto obbligatorio, il famoso oggettino e così via. È chiaro che tutto questo è dei costi e anche questo fatto ovviamente è una forma di coercizione, perché non si capisce per quale motivo uno debba utilizzare obbligatoriamente uno strumento che fa guadagnare solo ed esclusivamente alcuni soggetti, le banche oppure coloro che si occupano, le istituzioni che si occupano di transazioni di questo genere. Certo che ha un costo, ha un costo sicuramente voglio dire, mentre invece il contante fisico ha solo il costo di 1,36 milioni che è il discorso legato alla stampa della moneta, al trasporto, alla sicurezza e così via. Soprattutto questo, il contante non permette di avere denaro, di avere guadagni per queste istituzioni e questo li fa impazzire, oltre al fatto che poi l'imposizione dei post e post e così via, comporta anche altri due problemi fondamentali. Intanto quello della tracciabilità, ma di per sé il discorso della tracciabilità è legato al fatto della privacy, signori non dimentichiamoci mai, se lo Stato viene a sapere tutto quello che fai tu con i tuoi soldi, lo Stato ti può ricattare in qualsiasi momento, in qualsiasi momento, tu non hai più momenti di privacy e guardate che non vi sto parlando di distopie, vi sto parlando di cose che già sono accadute, sono cose già accadute. Se voi pensate al famoso caso di, dunque come si chiama? Quello, l'inventore di Wikileaks, adesso mi sfugge il cognome, non mi viene alla mente, come hanno fatto ad incastrare l'inventore di Wikileaks, mica l'hanno potuto incastrare per quello che aveva messo a nudo, tutte le porcherie fatte durante la guerra dagli americani e dei suoi alleati, lo hanno incastrato in che modo? Attraverso un rapporto che questa persona ha avuto 20 anni fa con una ragazza in Svezia, la quale era stata a letto con lui volontariamente e che hanno utilizzato poi per fare che cosa? Per incriminarlo, per violenza carnale, stupro etc. Questo vuole dire che domani mattina, se voi tutte le vostre attività e transazioni vengono controllate, ci vuole un secondo perché l'autorità locale vi possa mettere sotto scacco dicendovi, ma tu l'altro giorno sei andato a farti una canna? etc. etc., piuttosto che sei andato a donne ed è risposato, capite? Questo al di là della moralità o dell'immoralità del comportamento che non compete a noi discutere, ma è proprio una questione di privacy, lo Stato si inventa leggi sulla privacy che sono ridicole, assurde, lo sappiamo, dall'altra parte la prima cosa che fa è violare completamente la tua privacy, la tua libertà di cittadino di utilizzare i tuoi soldi e fare come vuoi. Sì, e poi abbiamo saputo pure che lo Stato che ha la possibilità ormai di ficare il naso dentro il tuo conto corrente viene anche a spiare come usi il denaro nel corso dell'anno e tirare anche la conclusione se tu hai vaso o no in base al tenore di vita che sostiene, cioè siamo le dievolerie più assurde a dover giustificare da parte del contribuente come è spesso il tuo denaro perché magari… Esattamente, ma tutte queste cose di cui tu stai parlando sono già in essere. Sì, sì, sono già in essere. Abbiamo sempre denunciato a questa radio. Il problema per loro qual è? È che tutte queste cose già in essere nel momento in cui tu puoi usare il contante servono a un fico secco. Se tu hai 10.000 Euro in contanti e vuoi, che ne so, acquistare qualcosa in contanti, ovviamente questa transazione non passa dai loro bit, dal loro serpico, dal loro cervellone eccetera e quindi non possono compararlo con questi studi di settori allucinanti o spesometri allucinanti che hanno inventato, non possono presumere nulla di te eccetera e così via. Ecco il motivo per cui il contante è odiato. Ecco perché il motivo è l'ultimo centimetro, perché quell'ultimo centimetro, cioè quell'esistenza ancora di questa massa monetaria in circolazione è quella che a loro non permette di controllarsi al 100%, questa è la cosa che li fa impazzire. Ma guardate che è veramente l'ultimo centimetro, perché già oggi ce n'è abbastanza per considerarsi in uno stato che è molto simile a quello panoptico di alcuni romanzi distopici che conosciamo e abbiamo letto. Questa è la verità dei fatti, noi oggi viviamo in una specie di Truman Show che è un carcere, un grande carcere dove c'è un secondino, più secondini che ci controllano in tutto quello che facciamo. Loro hanno questo in testa e questo vogliono fare. Il contante è quell'ultimo passettino, quell'ultimo centimetro che a loro non permette diciamo di tenerci completamente sotto controllo. Beh, d'altra parte in fondo ci sono quasi riusciti perché se pensiamo che hanno obbligato tutti ad avere un conto corrente per cui le pensioni non sono più distribuite ai sportelli ma vengono versati direttamente in banca e questo è anche un modo per poter non far circolare denaro o non farlo finire nelle case dei pensionati. Ma non solo, ma pensa a questo momento di crisi, già qualcosa è accaduto con il primo avvisaglio di Cipro di due anni fa. Se tu i tuoi soldi li hai tutti in banca, dalla sera alla mattina questi dicono che non abbiamo soldi per pagare. Non li perdi tutti purtroppo. E li perdi. È successo in Argentina e sarà sempre così. Il Novecento è pieno di queste cose. Loro abolendo il contante, beh a quel punto lì ti rendono assolutamente uno schiavo. Assolutamente uno schiavo. Ce n'è già abbastanza per essere considerati degli schiavi. Io non smetterò mai di dirlo. Ma qui la gente pare non svegliarsi, sembra che tutto vada bene. Adesso però c'è anche questo ultimo attacco, questo attacco al contante. Come diceva Marshall McLuhan, il contante, Marshall McLuhan, il famoso scrittore, l'inventore del villaggio globale, Marshall McLuhan diceva che il contante è la carta di credito dei poveri. Ecco, loro non ammettono nemmeno che ci possa essere la carta di credito dei poveri. Loro ci vogliono assolutamente sotto controllo, sotto ogni aspetto. Tra l'altro nel mio libro io riporto, perché tutti coloro che oggi si definiscono favorevoli all'evolizione del contante, non sono tutti quelli mossi da una certa invidia per cui si dice sì, perché quel bastardo riccone può evadere, può fare. Ecco, devono mettersi in testa una cosa queste persone, che coloro che hanno enormi quantità di denaro e ricchezze possono fare quello che vogliono in qualsiasi momento, perché hanno la possibilità di pagare il servizio per poterlo fare e per loro non esiste restrizione che valga. L'abolizione del contante è un'arma di distruzione di massa del ceto medio, non dei grandi ricchi o dei grandi evasori. E poi, scusami, ma se riesce qualcuno a sottrarre denaro al controllo dello Stato, io lo considero un benefattore, nel senso che non dobbiamo considerarlo per forza mettergli la croce dell'evasore e quindi metterlo in croce. Vabbè, che ti devo dire? Ma l'ultimo stadio qual è? Perché a noi piccoli, apparteniamo adesso a una classe media che sta scivolando verso una classe medio-bassa. Ecco, che ci resta in fondo di contante? Quello che possiamo prelevare non più di un tanto al mese dal banco, Matteo. Anche quello ci toglieranno? Beh, sì, l'intenzione è quella. Appunto, appunto. Avvisiamo chi ci ascolta e chi ci toglieranno anche questo. Esattamente, l'intenzione è quella. Io nel libro riporto alcuni progetti di legge, sia italiani che non, che hanno quell'obiettivo proprio di evitare che tu possa usare il contante. Cioè, deve sparire dalle tue tasche il contante. A parte che è una follia, perché questo non, voglio dire, anche proprio dal punto di vista del vivere comune risulterà molto complicato. Però la loro intenzione è quella, è assolutamente quella. Ed è chiaro che le banche poi appoggiano questo, perché i vantaggi per le banche, oltre che per i governi ovviamente, sono evidenti. Intanto perché anche ogni operazione finanziaria poi viene tassata. Poi hai voglia tu quando non hai più contante di dire, ma non è giusto che voi mi mettete una tassa su. Lo faranno. Poi ogni transazione finanziaria non può essere adibitato un costo. Come dicevi tu prima, noi parlavamo semplicemente del POS. Loro possono inizio a dire, vabbè, faremo in modo che il POS costi poco o niente. Eh, ma una volta che poi ce l'hai installato e loro hanno il coltello dalla parte del manico, possono dire che ogni operazione fatta col POS ti viene a costare un euro e quindi è un'ulteriore tassa. Soprattutto vengono eliminate le corse agli sportelli. Cioè in Grecia, guardate quello che è successo in Grecia due mesi fa, non molto tempo fa. Cosa c'è stato in Grecia? Hanno fatto la corsa di sportelli perché la Grecia ovviamente finché non si raggiungeva quell'accordo dopo il referendum che hanno fatto eccetera e così via. Tra l'altro i greci hanno votato no e poi hanno fatto l'accordo lo stesso e siamo veramente al ridicolo. Però c'è stata una corsa di sportelli enorme, solo che chi ha grossi patrimoni non aveva problemi perché comunque i soldi li hanno sempre girati sulle tante banche che hanno in giro per il mondo e così via, perché ancora nel mondo esistono degli spazi di libertà. Il problema è per il centro medio, medio-basso, dove la corsa allo sportello viene eliminata perché cosa ha fatto il governo greco? Ha imposto il massimo di prelievo, vi ricordate? Non si poteva prelevare più di 250-300 euro a settimana, adesso non ricordo quanto fosse. Cioè voi capite che siamo alla follia, no? Eppure quello è quello che vogliono fare, insomma. Beh, appunto, si era detto anche che i conti correnti che venivano aperti per i pensionati non sarebbero stati a costo zero, poi così non è stato perché vorrei sfidare quale banca apre un conto corrente senza chiedere che venga pagato il servizio. E quindi altra tassa sulle pensioni già di per sé? Sì, ce ne sono alcuni che te lo permettono se però tu hai il deposito, ad esempio, del tuo stipendio sul loro conto corrente, hai capito? Perché chiaramente perché nel sistema monetaria non dimenticatevelo mai, cioè ogni, per ogni, la legge dice che per quello che viene depositato la banca garanzia può tenere il 10% di quello che viene depositato e quello è sufficiente per legge, no? E già questa è una follia, no? Si chiama riserva frazionaria. Cosa fanno loro con gli altri soldi? Gli altri soldi li prestano ad altre persone, quelli depositano in altre banche che hanno lo stesso identico compito, del prestito ricevuto tengono soltanto il 10% di quanto depositato a garanzia del depositato e tutto questo che si chiama leva monetaria non fa altro che creare appunto del denaro dal nulla, questo lo fanno le banche centrali originariamente stampando il denaro e lo fanno le banche commerciali con questo tipo di operazioni. Cerchiamo la follia. Allora diciamo dove potere e come potere acquistare questo libro perché è una buona guida anche se penso verrà un po' il mal di stomaco a leggere, no? No, 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 nel senso un po' di rabbia, dai. Questo come diceva Orwell, non c'è nulla di più rivoluzionario della verità. Si, si, no, perché ridiamo. Non c'è, 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 non c'è. E tipo, allora, qualsiasi persona può andare a una libreria e ordinarlo, poi le librerie lo ordino direttamente all'editore e glielo facciamo avere tramite posto, altrimenti se uno vuole averlo per posta basta che vada sul sito del Movimento Libertario e trova appunto l'inserzione, trova l'indirizzo, l'indirizzo e-mail è leonardofaccoeditore.com e lì si può ordinare il libro. Il libro costa 15 Euro, compresa la spedizione, sono 156 pagine e cos'altro? Io c'è una iniziativa che voglio portare avanti, chissà se mi riuscirà, proprio perché io sono convinto della bontà di questo libro, insomma, di quanto sia importante, veramente importante, no? E visto che ci sono molti commercianti, molti professionisti che spesso si lamentano, no? Ho ideato un'iniziativa per cercare di far sì che le persone che ci tengono al contante, che come me ad esempio, come te, sono favorevoli al fatto che il contante debba essere ovviamente libero e senza nessun limite, possono contare una quantità di copie, gli faccio un prezzo scontatissimo, così possono regalarle ai clienti o cose di questo genere, ecco, sto inventando le mie operazioni anche di questo genere, perché, insomma, io so che sarà una, come sempre, io sono abituato a far battaglie, ma questa sarà ancora di più una enorme battaglia, insomma, da portare avanti e così via. Vorrei concludere con una, se me lo permetti, con una, aspetta, una fila strocca che io ho pubblicato proprio in conclusione del libro, aspetta un secondo perché ho qua la bozza del libro e adesso te la leggo, perché non è nulla di nuovo, no? Tu sai che durante la scelta del nazismo è attribuita a Martin Ian Möller, scrisse una poesia sul silenzio e sulla condiscendenza della gente, in quell'epoca, parlando di nazismo e dagli intellettuali tedeschi, rispetto all'avanzata di quel regime, no? Io questa condiscendenza e questo silenzio continuo a vederlo in Italia rispetto a tante altre cose accadute, no? Cioè, per esempio quelle che dicevamo prima, il controllo dei conti correnti e il redditometro e l'evasione fiscale, c'è sempre a condiscendenza e allora lui scrisse una poesia proprio facendo, rimarcando quanto grave fosse questo fatto e io l'ho un po' modificata e allora, sentite la prima vennero, no? Io ho scritto prima di tutto vennero a prendere un pezzo del nostro reddito e fui contento perché pensavo servisse a fare del bene, poi vennero ad espropriare qualche immobile e spetti zitto perché non ne avevo, poi vennero a prelevare i soldi dei conti correnti e fui sollevato perché ne avevo pochi, poi vennero a chiedere il 70% di quello che producevo e io non dissi niente perché mi adattai a vivere col 30% che mi rimaneva, un giorno vennero a prendere il contante e mi accorsi di non avere più nemmeno i mezzi per protestare. Ma è carino, non c'è più niente. Fa riflettere insomma. Sì, sì, come no? E poi è una sequenza di eventi anche dal punto di vista cronologico molto esatta diciamo così. Esatto, sì, sì, infatti. Benissimo Facco, allora movimentolibertario.it.com oppure Leonardo Facco, chiocciola gmail. Leonardo Facco editore, chiocciola gmail.com Comunque sulla nostra radio daremo entrambi le e-mail in modo da poter stimolare questa curiosità a leggere il tuo libro. No, grazie a te per il tuo impegno, una voce controcorrente, una voce che non udiamo quasi mai in televisione. solo che a furia di una tale controcorrente è sicuramente diventato stanco. Lo so, ma il potere distrugge, distrugge, distrugge. Benissimo, bocca al lupo e grazie. Grazie, vi ringrazio tantissimo davvero, grazie davvero. Grazie a tutti.